buongiorno e benvenuti al tg5 per l'europa oggi è il giorno del via ufficiale al fondo salva stati lo strumento scelto dall'euro gruppo è scattato questa mattina agli arresti sono inviato matteo berti è il momento delle previsioni del tempo il tg5 torna alle 18 e poi alle 20 grazie per averci seguito una buona giornata a tutti grazie